Paura all'isola d'Elba, alla spiaggia di Sansone nel pomeriggio del 20 agosto per uno sperone di roccia che è caduto sulla spiaggia stessa colpendo due ragazzi che stavano prendendo il sole, due ragazzi di 20 anni originari di Bergamo. Nelle immagini che vedete il masso e l'asciugamano appunto dove erano sistemati il ragazzo e la ragazza con appunto i sassi che li hanno colpiti. Non sono gravi ma sono stati comunque portati all'ospedale di Livorno. Ecco una testimonianza. Sono arrivato lì e c'erano già dei ragazzi che erano dei soccorritori in Lombardia, hanno detto, e gli hanno prestato i primi soccorsi tentando di rianimarlo, però lui respirava autonomamente anche se era molto segnato in viso. Sì, c'era anche parecchio sangue in viso e aveva delle abrasioni sul petto. E i soccorsi sono stati immediati e spettacolari, sono stati effettuati con l'elicottero Pegaso del 118 che è rimasto sopra la superficie del mare, si è calato il medico con il verricello. Le prime cure poi il ragazzo e la ragazza sono stati issati appunto con il verricello a bordo, destinazione l'ospedale di Livorno. Nessun allarmismo su possibili altre frane nella zona, d'altronde la roccia in quel tratto è particolarmente friabile. Basta adottare delle semplici misure di sicurezza quando si va al mare, come appunto non sostare su speroni sporgenti, come avevano fatto i due ragazzi. Per la Nazione Online, Francesco Marinari.